Festa azzurra nello skid femminile. Due italiane Diana Bacosi e Chiara Cainero hanno vinto rispettivamente la medaglia d'oro e la medaglia d'argento nella specialità del tiro a volo alle Olimpiadi. La Bacosi e la Cainero erano entrate nelle qualificazioni con il terzo e quarto punteggio alle spalle della cinese Wayne Meng e della statunitense Kimberly Road. Nei colpi di eliminazione è arrivata la marcia in più, la Cainero con 16 su 16 e la Bacosi con 15 su 16. Nello spareggio per la vittoria la Cainero che era la favorita ha fatto un doppio errore nei primi quattro colpi. Tabacosi invece non ha sbagliato e si è presa a suo primo oro all'esordio dei giochi olimpici.